Mi chiamo Paolo Calza, sono nuovo Pro Application Engineer di Outline e sono qui per presentarvi il nuovo prodotto della serie Stadia, lo Stadia 28. Un diffusore con due 8 pollici in neodimio e un driver da 3 pollici caratterizzato da un'apertura orizzontale di 90 gradi e verticale di 25 gradi. Può essere utilizzato sia in configurazione Line Array ma anche in Array orizzontale. Si possono appendere un massimo di 6 casse, quindi per un totale di 150 gradi. Viene utilizzato principalmente per applicazioni come installazioni negli stadi caratterizzato da un alto SPL per garantire una buona intellegibilità anche a distanze abbastanza elevate. La meccanica viene fornita separatamente, non è integrata alla cassa, però garantisce la possibilità di essere configurata a propria volontà e in maniera molto versatile. Una caratteristica fondamentale sono i sistemi di sicurezza come le rondelle anti-giro e varie altre applicazioni particolari per le viti a vista che la rendono compatibile con gli standard FIFA per tutte le installazioni, quindi negli stadi di Coppa del Mondo e i stadi certificati FIFA. Grazie.